Il 16 novembre 1892 nasce a Casteldario, in provincia di Mantova, Tassio Nuvolari, famoso come pilota di moto ma anche e soprattutto come pilota di automobili. La sua carriera è iniziata in realtà prima ancora delle gare automobilistiche e motociclistiche come autista di ambulanze durante la Prima Guerra Mondiale, ma poi dal 1920 fino al 1950 corse tantissime volte vincendo tantissime volte, altrettante volte il premio e arrivando al primo posto. Era conosciuto con il soprannome di Nivola ma ancora di più come il Mantovano Volante proprio per il coraggio ardente delle sue imprese che lo fece diventare un vero e proprio mito. La gente appunto lo seguiva in tutte le sue corse, si appostava lungo le strade per acclamarlo e per appraudirlo. Io ovviamente non l'ho conosciuto di persona ma mi è arrivato il suo mito attraverso una famosa canzone di Lucio Dalla intitolata appunto Nuvolari contenuta nell'album Automobili, di cui voglio citare una frase che mi sembra che riassuma benissimo appunto il mito di Tassio Nuvolari. Quando corre Nuvolari, cantava Lucio Dalla, quando passa Nuvolari la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore. E finalmente quando sente il rumore salta in piedi e lo saluta con la mano.